Sintonizzatevi su canale 5 ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 15.45 e immergetevi nel mondo avvincente della sop opera turca My Home My Destiny, conosciuta nella sua terra d'origine come Dogdugun Ev Kaderindir. Questo telefilm ha fatto il suo ingresso trionfale in Italia il 10 luglio 2023 e da allora ha catturato l'attenzione dei telespettatori italiani giorno dopo giorno. Ah! Gigli appassionati di serie televisive, quel gruppo indomito di fedelissimi che seguono ogni episodio come se fosse un appuntamento religioso, scrutando ogni dettaglio e teorizzando sul futuro dei personaggi. Grazie alla loro passione insaziabile abbiamo la fortuna di essere sempre un passo avanti con spoiler e anticipazioni che arrivano direttamente dal cuore pulsante della produzione, in questo caso dalla Turchia, la terra natale di My Home My Destiny. Quando ci immergiamo nel tessuto narrativo di questa avvincente serie è impossibile non soffermarsi sul magnetismo e il carisma ineguagliabili di Ibrahim Celicol. Interpretando il ruolo di Mehdi con un'intensità e una profondità emotiva che hanno lasciato il segno, Celicol è diventato più di un semplice attore nel cast, è diventato un pilastro apparentemente irremovibile della storia, un faro che ha guidato l'intera trama. La sua performance non ha solo stabilito una connessione emotiva potente e palpabile con gli spettatori, ma ha anche elevato il livello di complessità della serie, rendendo il suo personaggio assolutamente indimenticabile e quasi iconico. In breve, l'incarnazione di Mehdi da parte di Celicol è stata talmente intensa da farlo diventare un elemento insostituibile, non solo nel cuore della trama, ma anche nei cuori dei telespettatori. Ecco perché le voci sul suo imminente addio alla serie hanno colto tutti di sorpresa. Si mormora che Celicol, deluso o forse insoddisfatto per il cambio di direzione nel suo ruolo, abbia fatto la scelta audace e drammatica di ritirarsi dal progetto. È un po' come se un giocatore chiave di una squadra di calcio decidesse di abbandonare il campo proprio mentre la partita è in pieno svolgimento. Il pubblico rimane a bocca aperta, incredulo, mentre cerca di immaginare come la storia potrà proseguire senza di lui. Quando un attore del calibro di Celicol decide di fare un passo indietro, è inevitabile che il suo personaggio subisca un destino altrettanto impattante e in effetti ecco l'avviso spoiler che tutti temevamo. Medi incontra una fine tanto tragica quanto indimenticabile. Se Medi è destinato a lasciare la serie, allora deve farlo con un certo stile, con un evento che scuoterà l'intera trama e che lascerà gli spettatori a riflettere sulle ripercussioni del suo addio. Il tutto rende ancora più intensa l'attesa per i prossimi episodi. Come verrà gestito l'addio di un personaggio così centrale? Quale sarà l'impatto emotivo sulla fanbase e sugli altri personaggi? Le domande sono molte e mentre attendiamo le risposte una cosa è certa. La scelta di Ibrahim Celicol di abbandonare la serie ha elevato il livello di interesse e le aspettative per My Home My Destiny a nuove vette. Ora, più che mai, tutti gli occhi sono puntati su ciò che accadrà successivamente in questa avvincente saga. Ma perché un attore così centrale ha deciso di fare le valigie? Si vocifera che il cambiamento di rotta nella storyline abbia giocato un ruolo cruciale. Inizialmente Medi era la figura maschile predominante della SOP ma tutto cambia con l'arrivo di una nuova pedina scacchistica sul tabellone. Engin Öztürk nei panni di Baris. Questo nuovo personaggio ruba non solo il cuore di Zeynep, la protagonista femminile, ma anche gran parte della sceneggiatura, relegando Medi a un ruolo di secondo piano. A Celicol, evidentemente, non è andata giù l'idea di essere retrocesso a mero attore di supporto. Nel tumultuoso universo narrativo di My Home My Destiny, le tensioni non sono un dettaglio minore ma piuttosto il motore propulsivo che alimenta la trama e cattura l'attenzione degli spettatori. Inizialmente, Mehdi, interpretato con vigore ed emozione da Ibrahim Celicol, è l'asse su cui ruota l'intera vicenda. Il suo personaggio, complesso e sfaccettato, sembra essere il punto focale attorno a cui orbitano tutti gli altri elementi della storia. Tuttavia, come in una partita a scacchi in cui una mossa imprevista può cambiare l'intero esito, la trama inizia a svilupparsi in una direzione che spinge Mehdi gradualmente ai margini della storia. Non è un semplice declino di importanza, ma un intricato labirinto di accuse, malintesi e congetture che avvolgono il personaggio in una rete sempre più stretta di sospetti. In una svolta che potrebbe essere paragonata ai colpi di scena dei grandi drammi classici, Mehdi si trova al centro di una tempesta perfetta. Una sparatoria accade nella casa di Zeynep e Baris e, anche se egli è estraneo alla violenza, viene rapidamente e erroneamente etichettato come il responsabile. È come se tutto il peso delle circostanze si fosse abbattuto su di lui, un sisifo moderno condannato a portare un fardello che non gli appartiene. Il dramma raggiunge il suo apice in un momento di pura tragedia. Mehdi viene aggredito e perde la vita. Il vero pugno nello stomaco è che tutto ciò avviene senza che Mehdi abbia la minima chance di difendere la sua onorabilità, di esporre la sua versione dei fatti o di scagionarsi dalle pesanti accuse. È un'uscita di scena che lascia il pubblico con un senso di ingiustizia palpabile, quasi come se avessimo perso la possibilità di un risarcimento emotivo. E solo quando il sipario sembra essere calato definitivamente su questa sconvolgente sequenza di eventi, emerge un ulteriore colpo di scena. Zeynep, in un viaggio verso la verità che stravolge ogni precedente convinzione, scopre che Mehdi era innocente. È una rivelazione che getta una luce completamente diversa su tutto quanto accaduto e apre una serie di nuove domande angoscianti. Chi è allora il vero colpevole? Come potranno i personaggi rimanenti e gli spettatori fare i conti con questa rivelazione? Questo vuoto lasciato da Mehdi è la verità che emerge solo postuma, aggiungono non solo un ulteriore strato di complessità alla trama, ma sollevano anche questioni etiche e morali che risuonano ben oltre lo schermo. In questa intricata ragnatela di emozioni, azioni e reazioni, My Home, My Destiny dimostra ancora una volta di essere una serie capace di mantenere il suo pubblico incollato alle poltrone, aspettando con ansia il prossimo colpo di scena. Ah, l'arte sublime della narrativa televisiva. In una serie come My Home, My Destiny, il ritmo della trama ha la stessa importanza di un tamburo in una sinfonia, scandendo il tempo e tenendo l'audience incollata allo schermo. A mano a mano che la trama si complica, si addensa e diventa sempre più labirintica, gli spettatori si ritrovano sospesi su un filo sottile di tensione, ansiosi eppure eccitati per i nuovi, imprevedibili colpi di scena che possono apparire in qualsiasi momento. Ogni episodio diventa una sorta di montagna russa emotiva, un mix di aspettative, delusioni, rivelazioni e, a volte, sconvolgimenti. Il pubblico si ritrova a speculare incessantemente su cosa accadrà dopo, alimentando dibattiti accesi su forum online, chat di gruppo e persino tavole imbandite per la cena. Cosa ne pensate del destino di Mehdi? Diventa una domanda che riecheggia nelle conversazioni, quasi come un leitmotiv che non possiamo ignorare. La partenza drammatica di Mehdi, dal palcoscenico della serie, ha lasciato un vuoto, quasi come un buco nero che attira tutte le congetture e le supposizioni. È un addio che ha scosso l'intero ecosistema della storia, come un albero maestoso che cade in una foresta silente. La sua assenza è palpabile e, ora che uno dei personaggi più amati e complessi ha lasciato la scena in modo così teatrale e tragico, le domande si moltiplicano. Come si ricomporrà il puzzle della trama senza di lui? Quale nuovo equilibrio emergerà tra i personaggi rimanenti? E come gestirà la serie il vuoto lasciato dal suo carisma incommensurabile? Ciò che è ancora più intrigante è il fatto che la storia è tutt'altro che conclusa. Con la verità su Mehdi finalmente rivelata, seppur postuma, emergono nuovi enigmi, nuovi dilemmi e nuove direzioni narrative che la trama potrebbe prendere. Chi occuperà il vuoto lasciato da Mehdi? E quale sarà l'effetto domino di questa sconcertante rivelazione su Zeynep, Baris e tutti gli altri personaggi? In fin dei conti, mentre la narrazione continua a evolversi e a prendere strade inaspettate, una cosa è certa. Gli spettatori saranno lì, con il fiato sospeso e il cuore in gola, pronti a navigare attraverso le curve impreviste e le accelerazioni emotive di questo rollercoaster narrativo. E così, l'orologio del dramma continua a ticchettare, scandendo il tempo di una storia che, come la vita stessa, è piena di sorprese, di dolori e di momenti indimenticabili. E non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva il prossimo episodio. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni.